Sono 1043 gli utenti che in quattro mesi sono stati avviati a percorsi di ricollocazione dallo sportello lavoro di CISL Lombardia. Il nuovo servizio è attivo in tutta la regione grazie a una rete di 22 sportelli territoriali e la partnership con due agenzie di lavoro interinale. Noi siamo bravissimi quando dobbiamo gestire i processi di crisi dove ci sono degli esuberi a dare risposte ai bisogni dei lavoratori. Vogliamo tutelare le persone, la gente che vuole entrare nel mondo del lavoro, anche su questo bisogno. Con gli sportelli credo abbiamo raggiunto un risultato importante. Il 51% di coloro i quali hanno usufruito di questo servizio sono uomini, il 49% donne, il 29% ha tra i 15 e i 29 anni, il 38% tra i 30 e i 45 anni, il 33% ha più di 46 anni, un dato che la dice lunga sulla situazione occupazionale del nostro paese. È un dato preoccupante, come sosteniamo la crisi è tutt'altro che finita, il mercato del lavoro è cambiato, il vecchio mercato del lavoro che conoscevamo, stabile, con certezze maggiori, con modalità diverse, non c'è più o c'è molto di meno e chi ne paga di più il prezzo sono coloro che hanno maggiori difficoltà ad adattarsi a questa nuova modalità che il mercato del lavoro impone. Lo sportello lavoro ha il compito di fornire loro strumenti per essere adeguati, molto più adeguati a questa domanda. I dati sono stati presentati nel corso di una tavola rotonda svoltasi alla sede di CISL Lombardia dal titolo La sfida delle politiche attive, in cui l'assessore regionale a istruzione, formazione e lavoro Valentina Aprea ha reso noti i dati lombardi. Abbiamo avviato al lavoro più di 50.000 giovani nella misura di garanzia giovani e siamo particolarmente felici che uno studio indipendente europeo ci abbia riconosciuto come buona pratica europea insieme soltanto ad altre quattro regioni europee. Quindi siamo tra le cinque performance migliori di garanzia giovani.